benvenuti cari amici questo primo approfondimento in studio come vedete al mio fianco c'è la nuova hyundai tucson una novità davvero importante per hyundai naturalmente ma per tutto il mondo dell'automotive e ne vogliamo parlare con paolo sperati senior pr di hyundai motor company italia ecco paolo lo vedo collegato ciao grazie per averci dato il nostro invito buongiorno michele buongiorno a tutti ai telespettatori di safe drive dunque non sbaglio se dico che è una novità davvero molto importante per voi ma un po per tutti noi perché innanzitutto occupa vado occupare un posto importante in quello che il segmento suv c suv è un segmento fondamentale è diventato ormai nel mercato nel mercato dell'automotive in questo momento ecco voi avete tanto know how in questo in questo senso ormai l'avete maturato però per questa nuova vettura per questa nuova tucson cosa avete pensato per renderla distintiva rispetto alla concorrenza naturalmente ma sì michele detto bene tu nel senso che tucson è un segno una grande rivoluzione nella storia di hyundai ma senza essere senza voler essere troppo ambiziosi in realtà un po in tutto quello che è il settore auto dei suv dei costruttori generalisti il perché lo si intuisce già solo vedendola diciamo che ha un design che è estremamente rivoluzionario una firma luminosa che è molto molto distintiva e inedita nel panorama automotive e soprattutto porta con sé una raffica di novità a livello di comfort di connettività e di tecnologia che sono da best in class unita a quella che è una caratteristica di tutti i modelli hyundai in commercio che è una sicurezza all'avanguardia con il miglior pacchetto di garanzia attualmente disponibile sul mercato quindi cinque anni a chilometri limitati quindi un tentativo di alzare la posta quello che è il segmento forse più competitivo a livello italiano e con un prodotto che diciamo sta riscuotendo davvero un grande successo mi sembra di aver capito perché per emergere in questo tipo di segmento non bisogna tralasciare nulla bisogna essere forti e competitivi un po' sotto tutti gli aspetti della vettura non è sufficiente non è possibile concentrarsi su un solo aspetto hai parlato del design hai accennato a dei capitoli davvero molto interessanti che poi magari magari non tutti ma cercherò di approfondire in questo nostro incontro e però volevo accennare una cosa subito cioè ci togliamo subito la curiosità si fa molto parlare di si parla molto di elettrificazione in questo periodo di evoluzione dell'auto voi qual è la strategia per quello che riguarda la motorizzazione che avete scelto con questa nuova tuxon perché ci sono dei competitors che hanno preso delle strade molto così molto chiare molto nette molto dineate voi puntate su un'offerta più completa qual è la vostra strategia è stata proposta il lancio che lo ricordiamo è venuto a gennaio quindi qualche settimana fa con tre motorizzazioni elettrificate un imbrido un 48 volt accoppiato ai propulsori benzina e o diesel la scelta del cliente una motorizzazione full hybrid molto potente ma allo stesso tempo con consume di emissioni ridotte da 230 cavalli e a breve nelle prossime settimane sarà lanciato anche la motorizzazione plug in hybrid che aumenterà ulteriormente la potenza di tuxon ma soprattutto darà la possibilità di avere un'autonomia notevole in elettrico di circa 60 chilometri le versioni solo diesel solo benzina rimarranno in gamma oppure no allora attualmente la gamma è formata appunto da tre motorizzazioni elettrificate a cui si affianca un una motorizzazione diesel tradizionale nel senso che appunto essendo un segmento che ha un un nucleo storico comunque una clientela storica di di clienti diesel è stata mantenuta comunque una motorizzazione diesel per per questo tipo di clientela ma il focus vero è sicuramente sulla sulla motorizzazione ibrida è quella full hybrid che attualmente diciamo segna quasi il il 50 per cento delle delle scelte dei clienti Paolo sai che noi qui a safe dry siamo sempre caccia di novità quindi la novità nella novità perché di per sé tuxon è già una novità è quella del librido della versione ibrida plug in che arriverà tra poco se se non ho capito male riesce a darci dei dati su questa vettura attualmente diciamo partiamo dai dati che sono certi quindi i 60 chilometri sono una diciamo una possibile percorrenza con il ciclo omologativo WLTP che sappiamo essere molto molto vicino ai consumi reali pensiamo che il motore elettrico è di quasi 67 kilowatt grazie a una batteria da 13,8 kilowattora quindi comunque una batteria decisamente interessante per quello che è la soluzione ibrida plug in potenza massima 265 cavalli e coppia massima di 350 newton metri quindi non solo come dici tu grande efficienza in in elettrico che quindi sicuramente la soglia dei 60 chilometri sarà completamente alla portata ma anche una notevole possibilità per il cliente di contare su prestazioni decisamente interessanti perché spesso l'elettrico ancora si porta dietro un po' lo stereotipo del la macchina che non è prestazionale in realtà è tutto l'opposto perché la tecnologia dell'elettrificazione poi dipende dalle motorizzazioni porta con sé in realtà un enorme vantaggio anche in fase poi prestazionale se è stato se è stato molto chiaro se sei d'accordo io cambio capitolo ne apro un altro molto ampio però non ti spaventare nel senso che volevo parlare di 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 adas di sistemi di assistenza alla guida lo so è molto equipaggiata questa nuova tucson quindi ti chiedo se riesci così soltanto sottolineare quali sono gli aspetti più importanti più innovativi di cui equipaggiato appunto la nuova tucson sì allora tucson diciamo che fin dalle sue origini è sempre stato il SUV di riferimento su best seller in in europa e ha portato sempre con sé numerosi sistemi di sicurezza attiva e progressiva attualmente diciamo che i sistemi di guida assistita che noi diciamo come a livello di hyundai chiamiamo smart sense fanno un salto di qualità ulteriore e i principali sono questi sono lightweight driving assist che mantiene la vettura al centro della corsia regolando automaticamente la la distanza e la velocità dal veicolo che la precede questa è una funzione davvero innovativa per un SUV medio e un'altra caratteristica che balzerà subito all'occhio con nuova tucson è sicuramente il blind view monitor che sostanzialmente è una visuale sul cluster quello sul quadro strumenti diciamo del del di quello che avviene dietro di noi in caso di cambio di corsia quindi è una sorta di specchietto retrovisore aggiuntivo proiettato sul sul quadro strumenti è una diciamo una funzione che si vede solitamente su auto premium o su segmenti superiori e infine eh l'ultima cosa che mi viene da citare sono i sistemi per la sicurezza e il comfort dei bambini eh dal real occupant alert che segnala eh eventuale eh una permanenza sui sui sedili posteriori fino anche al al safe exit warning che diciamo che va a bloccare le postiere posteriori in caso di un sopraggiungimento di un di un veicolo quindi un ulteriore ausilio al canonico blocco delle portiere bene c'è aperto uno scenario davvero molto interessante anche su questa tecnologia su questo fronte Paolo io ti ringrazio grazie per il tuo intervento molto preciso e molto chiaro grazie a te Michele a tutta safe drive e ai vostri telespettatori ancora grazie a Paolo Sperati senior PR di Hyundai Motor Company Italia e possiamo a questo punto naturalmente dare il via a tutti i servizi di safe drive ricordatevi che nella seconda parte della trasmissione ci sarà un altro approfondimento in studio in studio verif contaminato